Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ormai è da due mesi più o meno che non faccio uno speciale Ci tenevo a fare lo speciale per i 900 iscritti Da dove ormai abbiamo raggiunti e anche passati da... Come speciale ho pensato un I call you Ovvero vi andrò a chiamare Quest'idea vi è piaciuta moltissimo Infatti mi sono arrivati 150 numeri e passa Ma purtroppo chiamerò solo 15 persone Quindi non vi preoccupate perché ce ne saranno altri di I call you E ci saranno altre possibilità Quindi non demordete perché prima o poi chiamerò tutti E ci sentiremo tutti quanti al telefono E sarà una grande figura di un'altra Bene, cominciamo Con l'ansia Pronto? Pronto, sei Isa? Sì Sono Giulia, vero? Sì Oddio Mi chiamato finalmente Come stai? Bene, tu? Bene, bene Sei agitata? Bene, perché Sì, è la prima volta che mi chiamavo a un youtuber famoso E sono un po' agitata Che mi racconti di bello? Che mi hai dato una gioia Finalmente Oh, che carina Che cosa? La prima persona che chiamo Oddio Pensavo che Perché stavo facendo una cosa Allora alle 5.30 ho detto Io ti chiamo Giulia Pronto? Pronto? Giulia? Sì Sì Ciao, come stai? Oddio 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 Come stai? Oddio Ma che amore Grazie Dai, un giorno ci incontreremo Ti amo tanto Giulia Anch'io ti amo tanto Ma aspettati Dove sei? Saluta? Ciao 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 Youtube Dai, davvero ti saluto Che chiamo un'altra ragazza È stato un piacere conoscerti Iscrivetevi al canale di Giulia Che è bravissimo Grazie Pronto? Pronto? Oddio Ciao 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 Come stai? Bene Bene Te l'aspettavi? Eh? Te l'aspettavi? No Quindi saluta Youtube Ciao E niente Dai ora chiamo qualcun altro Che c'è un tipo Un botto di numeri da chiamare Quindi Va bene Un bacione Ciao, bella Ciao Marco Ho una domanda Ciao, come stai? Bene Stai tipo sclerando Mi ha spandato un timpano Eh va bene Grazie Ti voglio bene anch'io Ok Saluta Stai tipo morendo Sì Buon salve Buon salve Ciao Ciao, come stai? Bene, tu? Bene Te l'aspettavi che ti chiamavo? Eh no Comunque sei nel video Quindi saluta Ciao Buon salve Ciao 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 Come stai? Bene 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 Se vi lì ce l'ho chiamato Mi fai grazie Prego Saluta Youtube Perché tanto ormai Ciao Ciao Federica Ciao Ciao Come stai? Bene 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 Non sta sclerando pure te Vero? Sì Oh zì Ma io chiamo tutti O chi piange O chi mi urla Cioè io non lo so Bo Cosa pensi di One Direction? Ciao Ciao Come stai? Bene Grazie Bene Bene Ma perché mi hai sgiamato sempre tutti? Non è possibile questa cosa Il mio video sarà il disagio ragazzi Tutto questo Comunque saluta perché sei su Youtube Ciao E dai Ora provo a chiamare qualcun altro Ti voglio bene Un bacione Ciao Bella Ciao Ciao Sono dell'Enel Sì Salve Salve Vorremmo farne una nuova promozione Sì Dica Tu sei Miriana Giusto? Sì Sono Giulia Ciao Giulia Ciao Come stai? Oggi Non ti spero Sì Dai Ma stai piangendo Sclerando Morendo Non lo so Sì Sono Morendo Oddio Oddio Che bello Comunque sei Bene Tu come stai? Ti vedo un po' Bene Sono Morendo Nel giudice Comunque sei nel video anche tu Dai un ciao a chi ti vede Ciao a tutti Sono Martina Sono Francesca Sono Francesca Oddio 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 Chi è? Sono Giulia Oddio 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 Calma Oddio Oddio Sto morendo Sto aspettando da un sacco di tempo Non da un sacco di tempo Da un po' di tempo Oh che carina Come stai? Ok Sono Io adesso E' sempre La mia di Caserta Caserta Oddio E vieni presto Che ti accogliamo Dovrei venire perché volevo di tanto la reggia di Caserta E quindi Sto convincendo qualcuno a portarmi Dai Pronto? Lo sai che è un bellissimo nome Ciao Ciao Sì sono io Ciao Ciao come stai? Bene 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 Sto amore di ansia ogni volta che vi chiamo Ti giuro Comunque sei nel video su YouTube Saluta Ciao Cosa pensi di One Direction? Ehm Sono la mia vita Ciao Ciao Come stai? Bene bene Non stai sclerando pure tutti Prego dimmi di no Sì io sto sclerando Non ho chiudente Ah ok Meno male No perché ho perso quasi l'udito Ehm Sto ascoltando le guanaglie Davvero? Quale canzone? Ehm Queen Story Ti mando un bacione enorme Dai ci vediamo presto Ok Hai partecipato al contest? No Ciao come stai? Tutto bene Tutto bene Oddio stai sclerando pure tu Sì No No che carina Ma io che ho avuto persone che mi sclerano Io non lo so perché Cioè No perché magari sei tu Che chiami Quindi Oddio ma sembra che so Oddio Cioè non lo so Beh è probabile Cioè Perché le persone Te dicono così Penso di sì allora Roma Oddio Mi hai mai visto? Sì Davvero Oddio aspetta Dove? Ti ricordi quando C'eraci con Vani con cosa Con sceffo Ok Quando ci avevamo le maschere di One Direction Oddio Sì Io avevo la maschera di Liam Ok sì mi ricordo di te Pronto Meglio Anthony o Alberico? Oddio Ciao Ciao Oh signore Come stai? Tutto bene Tu come stai? Non mi sono Stai morendo? Stai morendo? Sì Oddio No vi prego Non fate così Perché sennò veramente Mi metto a piangere io Vi giuro Oddio che bello Non ci puoi credere Stai un giorno che venga per un giro Cioè ci becchiamo Vai Perfetto Guarda ti saluto Perché chiamo qualcun altro Un bacione Perfetto Ciao bella Pronto? Cosa pensi di Giulia Cao? Che è una ragazza fantastica Molto dolce E anche Cioè super carina Oddio che dolce Ciao Ciao YouTube Un bacio E niente dove sei? Sono a casa in questo momento Tutti che mi dicono a casa No intendo come città Cioè di dove sei? Ah di ospedaletto Cioè lo dicevano In provincia di Lodi No Aspetta Dov'è Lodi? Cioè io la giocatrice Facciamo veramente a pugni Quindi dov'è Lodi? Aspetta È al nord? Cioè da Milano Più o meno Ok Sospettavo che era al nord Pronto? Ciao Giulia ti odio Grazie Ti voglio bene anch'io Ti voglio bene anch'io Ti voglio anche bene Giulia Mottoni d'ansia Vabbè dai Su un po' di ansia Non guasta mai Nella vita Su E vabbè Saluta comunque YouTube Alberico Antony Mia nonna Mio zio Tutti In mondo Verrò a Padua Col monopattino Poi ti raggiungerò E ti dirò Saluta da Roma Col monopattino Lascia perdere il mio risaggio Tu Di sempre di sì Non ti preoccupare Comunque Sei nel video Quindi saluta YouTube Il popolo Saluta il popolo Di YouTube Ciao YouTube Un bacio Hai un accento troppo figo Mi piace Basta Grazie Ora chiamo qualcun altro Ti voglio bene Un bacione enorme Ciao Bella Anche io Un bacione anche a voi Ciao ciao Il video di oggi Finisce qui Se vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare Un bel pollice in su Di commentare Se volete appunto Un altro ecoglio E raggiungiamo almeno I 70-80 like Per un altro episodio Di questo genere Io come sempre Vi ringrazio Vi abbraccio fortissimo E spero un giorno Di vedervi a tutti quanti Da qualche parte Ci abbracceremo tutti quanti Vi mando Mille bacioni enorme E ci vediamo al prossimo video Ciao